Essere studentesse e studenti universitari, essere economicamente indipendenti e trovare un lavoro compatibile con lo studio non è sempre facile. Ma lo sapevi che l'Università di Siena offre ogni anno a studenti e studentesse delle opportunità per guadagnare? Sono tre le tipologie di occupazioni possibili presso l'Ateneo. Svolgere un servizio di tutorato, svolgere una collaborazione part-time con l'Università, svolgere un tirocino retribuito. Ma quali sono le caratteristiche e le differenze di ognuno? Scopriamolo insieme. Io sono Margherita e sono una studentessa tutor. Ciao, sono Prit e sono collaboratore universitario part-time. Sono Angelo e svolgo un tirocino retribuito presso l'Ateneo. Che attività svolgi presso l'Università di Siena? L'attività di tutorato ha diverse declinazioni. Io ad esempio ho svolto la mia attività nel mio dipartimento, ma è possibile anche offrire un supporto agli studenti e alle studentesse con DSA o disabilità, oppure anche per esempio agli studenti detenuti. Ma tutte sono accomunate da una stessa vocazione, che è quella di mettere a disposizione dei nostri colleghi e delle nostre colleghe le competenze e le conoscenze acquisite. Io svolgo la mia attività in un ufficio universitario, ma è possibile farlo nelle biblioteche universitarie o nel settore disabilità e DSA. La mia è un'attività di formazione che mi permette di acquisire competenze per il mondo del lavoro. Il mio tirocino fa parte del progetto della teledidattica e lo svolgo presso la sede di San Francesco. Altri tirocini possono essere svolti presso altre sedi. Quante ore ti sono state assegnate e quanto guadagni? Il monteore varia fino a un massimo di 200 e la retribuzione è di circa 10 euro all'ora. Per alcuni incarichi però è prevista una retribuzione leggermente maggiore. Il bando è conosciuto come 150 ore, ma possono essere assegnate 200 ore e il retribuzione è 10 euro all'ora. Le ore compensi sono variabili in base al progetto di tirocino. Nel mio caso svolgo al massimo 35 ore settimanali per 800 euro al mese. Cosa hai fatto per svolgere questo tipo di attività? Per diventare studente tutor è necessario superare un bando di selezione. La prima fase prevede una valutazione dei prerequisiti curricolari e di merito e in alcuni casi è necessario superare anche un colloquio. Ho partecipato a un bando che si base su merito e a parità su reddito. Bisogna iscriversi a un bando, la selezione è basata sul merito. Quando escono i bandi? Per l'uscita dei bandi di tutorato non c'è una data fissa ma solitamente in primavera. Il bando esce nei primi mesi dell'anno tra gennaio e febbraio. I bandi escono in base alla disponibilità delle sedi e verrà comunicato per mail quando vi sarà un nuovo bando. Quello della teledattica a cui faccio parte esce tra giugno e luglio. Qual è la cosa che ti piace di più? Per la mia esperienza l'aspetto più gratificante del lavoro di tutorato è stato senz'altro il rendersi conto di poter essere un aiuto effettivo per i propri colleghi e di poter essere una mediazione umana tra la macchina universitaria che a volte è un po' fredda e respingente e la comunità studentesca. Sicuramente gli orari flessibili ma devono essere concordati con la necessità dell'ufficio e anche di conoscere meglio gli uffici universitari. Essere indipendente dal punto di vista economico. Qual è invece l'aspetto più difficile di quello che fai? Direi forse il senso di responsabilità che deriva dal sapere di essere un punto di riferimento ma forse è più delicato che difficile. E imparare un'attività completamente nuova diverso da quello che studio. Ad ora non ho ancora riscontrato nessuna difficoltà. Riesci a conciliare bene in questa attività con lo studio? Sì. Sì. Sì.